Nessun sermone, ma parole dettate dal cuore. Papa Francesco ha scelto di non leggere un testo scritto, ma di riflettere sui concetti che Raffaele e la sua famiglia, terremotati di Amatrice, e Don Luciano, parroco di tanti paesi tra Norcia e Preci, hanno espresso in Aula Palosesto, nell'udienza concessa dal Pontifice, terremotati di quelle zone. Ricostruire è stata la parola più ripetuta. Ricostruire con il dolore, ricominciare senza lasciarsi andare, non con un vuoto ottimismo, ha detto il Papa, ma con la speranza. Speranza che sono mani che scavano e salvano, ma anche silenzio dinanzi alle ferite della terra e della vita. Non ferire di più quello che è ferito. E non ferire con parole vuote, tante volte, o con notizie che non hanno il rispetto, e che non hanno la tenerezza davanti al dolore. Non ferire. Ognuno ha sofferto qualcosa. Alcuni hanno perso tanto, non so, la casa, anche i figli, o i genitori, o il coniugue. Ma non ferire. Il silenzio, le carezze, la tenerezza del cuore ci aiuta a non ferire. E anche si fanno miracoli nei momenti dei dolori, no? Ci sono state riconciliazioni, ha detto il parroco. Si lasciano da parte Antiche storie Ci ritroviamo insieme In un'altra situazione Ritrovarsi Col bacio, con l'abbraccio, con l'aiuto mutuo Anche col pianto Piangere insieme è un modo per ricominciare Anche se resteranno le cicatrici Ma ci sono cose belle anche nel dolore Sottolinea il Papa Come i parroci Che non hanno lasciato il loro greggio davanti al lupo Che non sono scappati Ma hanno ricreato unità nella comunità Una nuova famiglia Che oggi non deve smettere di sognare Ma che, nell'esperienza della vicinanza Deve avere il coraggio Di sognare ogni volta di più Che non sono scappati Che non sono scappati Che non sono scappati